Maxi sequestro di droga operato dai carabinieri, i militari dell'arma del reparto territoriale di Gela e delle sezioni di Riesi e Butera hanno individuato un'estesa piantagione di marijuana composta da 3.000 piante con un'altezza media di 180 cm gelate dalla vegetazione originaria in un fondo agricolo di contrata iudeica tra Butera e Riesi. Il proprietario dell'appezzamento di terreno, un 41enne Riesino pluripregiudicato, attualmente irreperibile, è stato denunciato alla procura di Gela per coltivazione di sostanza stupefacente. Importante ai fini dell'individuazione dell'estesa piantagione è stato il contributo di un elicottero del nono nucleo elicotteri di Palermo. L'operazione è stata possibile grazie innanzitutto a una pianificazione strategica svolta dalle aliquote investigative del reparto territoriale di Gela unitamente alle stazioni carabinieri sul territorio. E poi anche grazie a una aerocooperazione svolta dall'elicottero e quindi dagli elicotteristi dell'arma dei carabinieri che con sofisticati strumenti di videoripresa dall'alto sono riusciti ad evidenziare la differenza di tonalità di colore tra la piantagione di marijuana e il colore degli alberi di pesco. Siamo riusciti quindi prima di individuare dall'alto la presenza di queste piante di sostanza stupefacente e successivamente di giungere con grande tenacia e caparbietà a estirpare questa piantagione data la difficoltà e l'accidentalità del terreno nonché la rigidità delle condizioni meteorologiche nella giornata appunto agostana. Dalle piante sottoposte a sequestro penale è stato prelevato un campione per verificarne il valore del principio attivo e capirne anche quello che poteva essere il suo valore sul mercato nero della droga e la sua capacità psicotropa. La rimanente parte su disposizione del pubblico ministero è stata immediatamente distrutta sul posto. Queste piantagioni una volta essiccate, una volta immesse sul mercato avrebbero fruttato ai soggetti che gestivano il campo circa 2 milioni di euro. Un'attività molto importante, un'attività che indubbiamente ci fa comprendere come la coltivazione di sostanze stupefacenti è particolarmente ghiotta per le organizzazioni criminali ma in generale per i soggetti che vogliano svolgere una attività illecita. Le indagini continueranno, sicuramente verrà dato massimo impulso al contrasto della coltivazione e dello spaccio delle sostanze stupefacenti sia nel territorio di Gela ma anche dei comuni dipendenti del reparto.